Buongiorno, buongiorno oggi è giovedì 26 luglio, rassegna stampa di video 33, nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione, ancora una volta sarà una giornata di grande caldo sia in provincia di Bolzano sia in provincia di Trento con il passare delle ore aumento della nuvolosità e aumento anche della probabilità dei classici temporali di calore. In regia abbiamo Massimo Moro con il suo aiuto, andiamo a vedere quello che accade questa mattina in Alta Valpusteria, guardate che bella immagine, siamo in cima a Plandecorones, gioco di luci e anche arcobaleno grazie alla presenza di nuvole molto fitte in quota, come detto le nuvole arriveranno pian piano su gran parte del territorio della provincia di Bolzano e come detto anche nel pomeriggio sono previsti temporali anche in provincia di Trento. Andiamo a vedere la grafica, allora temperature massime in linea con quanto accaduto ieri a Bolzano 34 gradi, 33 a Merano, 31 a Bressanone, ci spostiamo in Trentino, 31 gradi a Trento a Capoluogo, 31 gradi anche a Riva del Garda, 24 gradi a Moena, 26 a Cavalese, 25 gradi a Malè. Andiamo a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, il quotidiano Alto Adige, ASL assunti, 60 italiani in deroga, non si trovano tedeschi, arrivano 20 medici, 40 infermieri. Il Corriere dell'Alto Adige, doppio passaporto, dalla Lega ai Verdi un no trasversale, sempre per la cronaca inviero Vigo, Cannabis Light, negozio nel mirino, il titolare dice tutto regolare, Forza Italia chiede però verifiche. La cronaca dalla provincia di Trento, lavoro, boom di assunzioni, l'apertura del Trentino, i dati 2017, siamo tornati ai livelli di prima della crisi. A Roveretto salta in aria il Bancomat di Piazza Rosmini, la mano è anarchica. L'Adige, Pat, Orossi o si rompe, PD e Upti messi all'angolo, sono pronti a cedere, allarme di nuovo per la presenza di Orsi, tre Orsi all'attacco in Valle del Chiese, evitate le trappole. E poi sappiamo il passaggio di proprietà in casa proprio dell'Adige, Michele Ebner dice il quotidiano resterà autonomo, i dettagli li troviamo a pagina 12, nessuna fusione di testate. L'amministratore delegato di Atesia dice l'Adige avrà la sua indipendenza e presentando l'acquisto rilancia la regione. Il quotidiano linguatresca Dolomita è impertonare in provincia di Bolzano, il tema è quello della democrazia diretta, quello che è accaduto ieri in consiglio provinciale, approvate la legge. I problemi della sanità per individuare e trovare nuovi medici, nuovi infermieri, abbiamo visto qual è stata la soluzione provvisoria, Pius Leitner ha deciso di lasciare il partito. Il quotidiano Tagest Zeitung, il caso Alex Schfazer, le ultime novità, il ruolo delle analisi del DNA, i dettagli a pagina 9. Il settimanale linguatresca FF, proprio un approfondimento dedicato ai Frank Heiterchen, alla figura di Pius Leitner, sappiamo le notizie di ieri di lasciare il suo partito. Il Corriere della Sera, a livello nazionale, il giorno dell'addio Marchionne, i conti e la borsa, crolla il titolo FCA, era in coma a Zurigo, Manley dice, rimaniamo forti. Quei miei 14 anni, accanto a Sergio, parla, parla Alfredo Altavilla, cambiando ruomento, un lago salato su Marte, la scoperta è italiana. Il sole 24 ore, addio Marchionne, Manley FCA resterà indipendente, Elkan parla dell'uomo, dell'amico che se n'è andato, parla anche al Presidente della Repubblica, la visione oltre l'orizzonte. Il nuovo CEO conferma il target e raggiunto l'obiettivo di azzeramento del debito. Foto a colori sul sole 24 ore in apertura per ricordare la figura del manager Fiat e Ferrari insieme a Chrysler. In chiusura, ricordiamo gli appuntamenti da non perdere. Proseguono a Casteltirolo e nel circondario le iniziative e le feste con gli appuntamenti dedicati alla musica e all'allegria. Il 27 di luglio, cioè domani a Silandro, il 17esimo meeting internazionale di salto con l'asta. Il 1 di agosto riapre il ristorante Forza Lagundo. Dal 10 al 12 di agosto la festa della città di Merano. Dal 17 al 19 di agosto la festa country a Prato, allo Stelvio. È tutto, io come sempre vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33.